I got this feeling on the summer day when you were gone I crushed my car into the bridge, I watched, I let it burn I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs Se n'è andato. Ha fatto ciò che ha potuto. E ora è andato a trovare la sua gente. Non posso giudicarlo male per questo. Gli ultimi esseri umani si stanno eliminando l'un l'altro nella lotta finale. Questa guerra non è sua. Spero che sia riuscito a perdonarci. A perdonarmi. Per quello che abbiamo fatto ai suoi fratelli e alle sue sorelle. A sua madre e a suo padre. Spero che sia riuscito a perdonare. Questa volta Moskvin non stava scherzato. La linea rossa sta avanzando su tre fronti. Gommilitoni, io non sono un uomo di molte parole. Voglio dirvi che voi siete i soldati più devoti e più coraggiosi della metro. Ciascuno di voi vale come cinque russi. Se svolgerete il lavoro per cui mi hanno addestrato, vinceremo questa battaglia. Sparta! Alle armi! Sparta! Sparta! Artificeri! È abbastanza! Tornate qui! Controllate l'attrezzatura! Stringhe allacciate, cerniere chiuse. Stringhe allacciate! Sparta! Stringhe allacciate! Stringhe allacciate! Stringhe allacciate! A presto. A presto. È svenuto. Aiutatelo a uscire di qui, mi compri no io. A presto. 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 Iniziairam. A presto. Sì, bella dal coarts. No structure. O se non hanno più carri armati. Si stanno ritirando! Vittoria! Li abbiamo battuti! Sulvania. Non si scherza con i ranger! Non eccitarti troppo. Sono ancora forti. A rapporto, sergente. Colonnello, i feriti sono stati allontanati dalla zona di fuoco e portati al punto di evacuazione. Ben fatto. Riorganizzatevi e preparatevi. Ci riproveranno da un momento all'altro. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Grazie a tutti. 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 Speravo di non dover arrivare a questo tipo. Eccoci qui. La struttura deve essere demolita. Ho già dato l'ordine a Polis. Visto che abbiamo perso il D6, la nostra unica possibilità è distruggerlo. Conti su di noi, signore. Al diavolo, nessuno vive in Eterno. E questo cos'è? Ancora! Sono qui. Sono tutti morti. Mi sento un po' come Cerse. Che imperdonabile spreco di uomini e risorse. Così tanti bravi soldati morti. E per cosa? La stazione di Polis? Il consiglio? Tutto è stato purificato dal fuoco della rivoluzione. Che piacevole sorpresa, colonnello Miller. O almeno, quel che rimane di lei. Artyom. Il momento. E' questo che può essere? Ah. L'ingegnoso giovane. Dimmi Artyom. Salvatore della metro. Ehm. No! Fermatelo! Non avere paura. Non ce n'è motivo ora. Chi ha detto? Ah! 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 Ed è così che il tuo papà ha sconfitto i nemici e salvato la metro. Il mio papà era coraggioso. Il più coraggioso di tutti. Perché non aveva paura di affrontare le cose che non capiva. E dove è andato il tetro, mamma? È andato via. In un posto sicuro. Ma ha promesso di tornare. E dove è andato via. Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.